Roma Un lancio di bombe carta e panico tra i passanti, a cui hanno fatto seguito cariche della polizia che si è trovata costretta a delimitare la piazza, piena anche di bottiglie in vetro a terra nonostante il divieto di vendita scattato già da ieri sera Momenti di tensione anche in zona Stadio Olimpico, dove alcuni ultra dell'Aentraic, tra i quali la questura sospetta si siano mescolati anche diversi ultra dell'Atalanta, gemellati con i tedeschi, sono entrati in contatto con le forze dell'ordine e con un gruppo di tifosi